Ritardi e cancellazioni a causa dello sciopero nazionale delle personale ferroviario. I sindacati denunciano un deciso peggioramento delle condizioni di lavoro. Ed ora i trasporti da questa mattina fino alle 17. Sciopero nazionale delle personale delle ferrovie in servizio su treni e nelle stazioni. Soddisfatti i sindacati per la massiccia adesione. Angela Trentini. Sul cartellone arrivi e partenze ma soprattutto cancellazioni e ritardi di frecce, intersiti e treni regionali. Allo sciopero nazionale che termina le 17 aderiscono quasi tutte le sigle sindacali di categoria che chiedono migliori condizioni di lavoro per tutti i ferrovieri e anche per gli addetti alle pulizie e alla manutenzione dei treni. Figure contrattualizzate da ditte esterne. I sindacati sollecitano una riorganizzazione dell'azienda con un adeguato piano di assunzioni nei vari settori nevralgici. Chiediamo un confronto, un confronto vero che l'azienda in pratica ci ha sempre negato. Noi abbiamo sottoposto all'azienda delle criticità, ci è stato risposto verbalmente, ma purtroppo, purtroppo, poi le criticità non sono state risolte. Si chiede anche il potenziamento della sicurezza degli equipaggi e si denunciano infatti troppi episodi di violenza e aggressioni di cui sarebbe vittima il personale a bordo e in stazione. Una vigilanza in quelle aree dove c'è maggior problema e quindi andrebbe tutelato il lavoratore. Trenitalia con un comunicato avverte che lo sciopero potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e che gli effetti della protesta potrebbe protrarsi oltre l'orario previsto. Alcuni treni sarebbero garantiti e le informazioni aggiornate sulle cancellazioni sono fornite attraverso il sito web di Trenitalia o dalle agenzie convenzionate.